Le reliquie del beato Pino Puglisi a Martina Franca. La peregrinazio di Don Puglisi ricorre nel suo 31esimo anno della morte e ha visto in Valle d'Itria la partecipazione del cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo. La peregrinazio di Don Puglisi a Martina Franca. La peregrinazio di Don Puglia 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 La peregrinazio di Don Puglia